Buongiorno, 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 buongiorno e buongan, buongan 2023. In quest'anno ti toccheranno forse le cose che tu ti spieti che ti tocchino, però di fatto ti succederanno anche cose che tu non ti spietavi. Stai attento, non ho sinché i che puoi decidere che la di tocchino, però dopo di decidere c'è il modo che non si tocchino. E allora il modificato ha ridotto le cose legate, ho indicato come sfidando, vedendo come c'è qualcosa di imparare, vedendo come indulare come crescita il mio modo di vivere. Insomma, che il dì vivi insieme con lui, perché lui alzace che l'ha di Tocchianus, ecco, e di conseguenza vivi e consideralo conviventi. che allora soffrontiamo insieme la prossima giornata, insieme con lui o intendo, non lo sfasarà pure noi. Buon anno e buone giornate e buone vite.